ma si non serve eh il tuo lavoro solo non ho capito guarda che voglio diventare anche io un vtuber ok giocavamo con facerig nel 2016 non ho mai provato facerig io si funzionava? si ma mi aveva sfondato il pc mi ricordo che mi aveva dato dei gravissimi buonasera che paura maledizione Gabriel ti odio che è successo? stiamo facendo lo stream for Ukraine che è una cosa positivissima quindi donate 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 ma ogni volta che uno dona mi parte un applauso fortissimo nelle orecchie e io faccio un infarto ogni volta madonna santa tantissimo tantissimo santa anche madonna io l'ho abbassato senza problemi come si fa Q? non è mica detto nessuno che si può come si abbassa qua? come si abbassa qua? non potevi mettere la T nel titolo per dire termosifoni? no è più bello così tra l'altro avevo anche usato il gioco sbagliato se non me lo diceva Karima andava a partire con una roba cazzo buonasera buonasera Facebook consumava più RAM di Google Chrome no non era quello il problema mi aveva rotto dei file nel pc mai più risolti ho messo la sorgente audio separata su OBS nell'impostazione della fonte ma che rottura di c***o madonna che palle è l'unica però mi sa sì ma adesso vatti te ricordare come si faceva tutto quel circo lì controllo audio tramite OBS ok eccolo qua mi ha ricaricato la live mi ha ricaricato a posto fatto hai ragione era letteralmente un flag da mettere però se a monte veniva abbassato l'audio io non avevo sto problema va bene Q grazie per il ride nel frattempo grazie anche a Sormalo per i cinque mesi prego Lino non mi ha cagato è di striscio non sente mai discord Lino e allora è vero perché è vero perché quando è OBS aperto non ho sbagliato ho chiamato Lino da solo aspetta che devo tornare di qua no ha messo giù Karim ops che c***o ho sbagliato ho sbagliato colpa mia perché allora sono stupido io ho cliccato il tasto destro sul Lino e c'è scritto chiama ok ingenuamente ho cliccato chiama in realtà se tu clicchi chiama gli fa una chiamata privata ah ok non lo aggiunge alla chiamata ok eh l'ho capito però è poco intuitivo posso dire potete avvisare voi Lino per favore la modalità streamer multa tutto sì sì ma è giusto che sia così grazie al fisico Zuzzurellone per i cinque mesi grazie mi sa che basta scrivergli su telegram sì lo so ma non lo voglio va bene sono impigrito oggi va bene ho montato il video non è ancora finito lo devo anche consegnare perché è quello di Tiny Tina ah giusto mi sono fatto tre ciao Lino ciao Lino mi sono fatto tre chilometri sotto l'acqua battente ah no sono distrutto tutto a posto tutto a posto mi hai chiamato giusto giusto quando ho finito una demo di un gioco sono cinque minuti cos'era quella roba là allora quale dici quello dove mi muovivo strano o quello con le braccia lunghissime ah Project Nostalgia si chiamava Project Nostalgia va bene sembrava di avere un altro ciao amici è un numero di Hitch tra l'altro ho giocato un gioco che avevo già giocato per sbaglio io stanotte volevo fare volevo fare un gioco si si chiama viaggio in treno cinese è bello quello io me l'ha dato Lino devo farlo io eh si ho fatto quello russo ed è lo stesso sviluppatore ma detto Lino ah è lo stesso ah si è lui sarà una bella ma qui è una serie guardando i si i viaggi in treni giapponesi scusate si ma guarda che quello russo era devastante era tutto rotto andavo ma questo sembra identico perfetto e beh cambia la location no in Cina ah in Cina si viaggio in treno cinese è scritto cinese secondo te dov'era scusami Karim a me invece vi ricordo che domani mi arriva la cloche e appena c'è la fibra vi porto in Giappone gatto io sono entrato ti ho visto ci siamo chat tra l'altro Karim se vuoi quando faccio il viaggio in Giappone tu ti puoi unire con il tuo gioco e ti stai ti fai il gioco dell'attesa vuoi farlo? però è bene guardi no non credo che per te vada bene in realtà perché è lunga fine in Giappone sono quante 12 ore? 16 ore sono 10 ore 11 ore l'andata e i 10 in ritorno non torno indietro non credo sia legale fai video come Surry sono 11 ore l'andata ma che poi che l'hai venga perché tu 90% del viaggio stai fermo ma faccio bar non torno come bar si guarda i film ma no è vero c'è una gran chiacchierata guiderò farò vai con un bimotore vai beh ci metto 48 e fai 46 scappoli per la benzina ma non in Russia che non è periodo insomma chissà quanto me lo fa pagare poi ciao Salta buonasera cosa vuol dire? non so lì non piacerebbe andare in Russia non ci conviene andare in Russia per i 59 mesi e i tammi primo aprile il 91esimo giorno del calendario del categorie il 92esimo degli anni bisistile mancano 264 giorni alla fine dell'anno grazie allungano un poco e passano dall'altra parte vanno dall'altra parte ma non lo so per risolvere questa cosa qui fanno il traforo ma fanno anche la tappa in America meglio di così allungano di qualche ora ah ok quindi lo devi fare più lungo il viaggio e si perché adesso lo spazio aereo Ucraina-Russia è chiuso e si è chiuso e gli aerei passavano di lì proprio ci sono dei cartelli i vigili che fanno così con il jetpack dei Jetson che spara quel laserino durante la 12 in aereo ti puoi mettere a vendere anche la roba switchi e fai anche il lost fai il lost e se ti metti a vendere è vero che ti dicono comprati il profumo comprati l'orologio quelle cose lì che dici ma perché cazzo dove comprami un orologio mentre sono sull'aereo un gioiello perché paghi meno tipo non paghi meno ma non mi è mai sembrato di vedere delle cifre perché lo spazio aereo è terra franca quindi non ci sono le leggi bravo se spari un uomo in alto quando si scende va bene infatti gli attentati aereo tranquilli dovrebbe essere tipo quando compri anche se non ho fame ordino sempre ero talmente emozionato di stare in aereo che ho comprato tutto quello che c'era nel menù e non vi ho mangiato questo piccolo bambino con le dita unte ma guarda che è uguale è bellissimo esattamente come in treno è come va in Giappone e svaliggi tutte le macchinette esatto il sapore non è che sia proprio il massimo è diverso perché poi dopo ti dicono allora vuoi comprare questo power bank no non lo voglio comprare il power bank insieme al palino te lo vendi no guarda che allora nei voli nazionali quelli più brevi non succede ogni volta che sono andato in America o comunque anche quando sono andato in Inghilterra anche se era un po' non tanto erano due ore mi pare ti portano un libricino che è coso come si chiama il client delle offerte sì ma il catalogo il catalogo è quello dove c'erano le donne nude bravo e c'era il postal market era ma tantissima roba e io me lo sfogliavo tutto in curiosità chissà se trovo qualcosa o mai in 12 ore non ho mai trovato qualcosa solo se vai a Londra solo se vai da una parte dall'altra no sì esatto in Giappone sono il più educato di là non ti danno nulla no vuoi c'è il query code che non ti danno più il cassericcio grazie Bruno e grazie a Shai Okami per i sei mesi buongiorno anche in Giappone si chiama cazzariello sì 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 no è termine nazionale oh mio dio che ho fatto cosa hai fatto stavo spendendo dei soldi per comprarmi delle skin non le voglio dai inviamo il gioco aspetta io sono intanto c'è un aggiornamento da 1 giga e 32 di model builder ma non mi hai fatto spaventare pensavo di questo gioco no minchia sarei morto anch'io eh appunto 40 minuti per scaricarlo eccolo qua il giochino il giochino è Midnight Ghost Hunt che non è un Pasmo Like tutti alla fine ho sbagliato ma io non avevo visto niente di questo gioco ho visto Fantasme ho visto loro che li catturavano ho detto Pasmo Like oggi ha finito la live Karim ho scritto subito nel gruppo ho detto c'è stato il panico ragazzi guardate che non è un Pasmo Like metto Gatto ma tu sai che gioco è è perché io ho avuto paura che tu l'avessi proposto a Karim convinto che era un Pasmo Like raccontiamo la storia io visto che non è un Pasmo Like non l'ho proposto a Karim proprio perché immaginavo che non gli interessasse però a mia difesa è vero che io non ho controllato il gioco però si chiama Midnight Ghost Hunt c'erano loro in prima persona con i fantasmi però attenzione raccontiamo il resto della storia sei stato tu a linkarmelo e io ho detto domani lo faccio ti infili sì quindi vuol dire che la prima riga del gioco è un caotico gioco a nascondino multigiocatore ma non l'ho letto non l'ho letto non l'ho letto niente io ho visto le immagini ed erano il solito Pasmo Like devi cambiare server aspetta poi hai fatto buono nel gruppo ha detto ragazzi ci hanno dato buca volete giocare con noi quell'altra volta non era non era no è amici è praticamente un item sick però con delle meccaniche molto particolari è propante esatto però c'è tipo c'è un certo punto dura 5 minuti o me esatto dopo i 5 minuti scatta la mezzanotte e i prop e i fantasmi devono cacciare i questo però accade solo se non vengono catturati tutti i fantasmi come si chiama il server ecco qua perché hai cambiato il server perché no no perché ero in io ero in ovest Europa eppure io sono in ovest Europa no in sud sud America sud Europa è ma non c'è sud Europa ma allora Lino sei un coglione me l'hai detto prima ma allora io ti ho detto dove siamo ma cos'è il sud Europa scusa me l'ha detto allora esiste perché l'ho cercato però me l'hai detto tu noi siamo in sud Europa non c'è nel gioco ma noi siamo in sud Europa ha ragione Lino infatti quando me l'ha detto prima nel gioco no ma non esiste ma non c'è l'Europa sì esiste siamo noi la Spagna il Portogallo ho cercato su Google perché avevo paura neanche io infatti quando me l'ha detto l'Europa l'Europa dell'Ovest perché si divide Ovest e Est si mette anche Nord e Sud grazie Amir per i tre mesi grazie sempre cose nuove grazie a Giulio buonasera ho sempre detto io Lino che sei una persona intelligente grazie sbagliando lo dici Marco facciamoci un guarnia di me e te però di dolci non partirebbe neanche cari me e perché ma scusate io ho invitato voi e adesso come non si può invitare io ho invitato i miei io ho invitato i miei bisogna fare il server e poi allora fai tu allora io me ne vado ci dividiamo l'audio anche no secondo me abbiamo deciso tutti insieme adesso proviamo poi vediamo al massimo ci allichiamo è più per la gente che per noi sì perché siamo un po' incasinisti tanto noi non ce l'abbiamo più vai che siamo tornati nel 2013 è bellissimo che bello sono molto casato no è 4 contro 4 grazie Frankie per i 14 mesi va bene dai ti aspetto risolta il server è termo grazie poi Erco ragazzi gatti belli sentirli tutti insieme dimmi che è una password che posso capire si puoi capire da tutti no sono uscito dal gioco è uscito dal gioco ma non è impossibile ma veramente Marco sei veramente la mia Lino sei veramente la mia versione senza capelli ti voglio aspetta che deve entrare Lino ci sono aspetta prendi il gioco ci sono dove me ne hai scritto siamo già in stream squad in teoria è vero è vero è Marco Lino Marco Lino però non facciamo niente voi non lo sapete ma lunedì scorso che abbiamo fatto FIFA a una certa è finito il primo tempo di una partita io ho detto ah finalmente è finita la partita Marco è uscito dal gioco eh mi sono un attimo distrato sto rientrando perdonate è la verità è sempre su Instagram e TikTok si si stava guardando per quello per quello si distratto aspettate che vergogna Marco non è vero cioè mentre lavora guarda Instagram questo qua eccoci qua ci sono amici qui eccoci qua dovete switcherci ma io non vedo i nomi però perché io mi sono la modalità streamer ma non vedo proprio i nomi però ma toglila no fammela togliere non c'è una nostra mappa che non sia la nave fantasma oh non inizia a romperle palle sono belle le navi ma non sta succedendo ma è la prima partita su una nave fantasma no fai una casa non c'è una villa io non è che sono avvezzo delle navi su cosa mi trasformo che ne so io in un bocce ci sarà una botte un topo ecco qua ecco della mansion invece è un espertone ma no è una casa il teatro il museo il museo vuole fare il Tyrex la scuola la scuola ma questa è brutta ma quante mappe tutte ce le facciamo beh mica sono tante sono sette sono sette e switchatevi lì ne Mark e come si fa? e non lo so e non penso si possa ma sì ma va bene non possiamo fare a caso beh sì sì si può fare anche a caso vabbè proviamo così dopo provo a rifare ben bene che adesso non vedo neanche i nomi un condominio fantasma esatto a Torino quindi io con chi sono? nella zona tanto non si copera insomma cazzo Moro che sfiga eh eh lo so Moro ma lo sai sono bravissimo a nascondermi ma forse siamo agli attaccanti ma il gruppo non c'è il gatto è giusto? che cosa? nel nostro gruppo non c'era Marco no no io lo vedevo eh ah siamo i fantasmi? a sinistra ah devo scegliere l'abilità? ah però dopo allora ve lo spieghiamo un attimino io adesso sono il fantasma come potete vedere qui per ho del tempo per nascondermi abbiamo zero punti però non possiamo esatto abbiamo zero punti lo scopo è scusami dove sei cari? ma tu sei qua non mi lascerà questo oddio perché questo è quello che ho usato nel ah ma c'è un buco in mezzo alla stanza come funziona guarda lì oh ma è bellissimo ma voi siete già partiti? ah no un minuto abbiamo abbiamo visto un po' di tempo mi sa che si parla in game occhio ma come? no no non ho sentito niente io ho sentito forse more due volte non lo so non mi fa vabbè mi tolgo il volo siamo letteralmente i ghostbusters ragazzi possiamo diventare le porte puoi diventare tutto quello che vuoi ma non pensavo la porta ma voi vedete che mi giro in macchina? no 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 però è molto carina questa cosa che il counter è praticamente l'unica che arriviamo in auto è fighissima sta cosa ricordo soltanto ai fantasmi che più rimani fermo esatto e cagli ectoplasma e più i loro attrezzi ti leggono sì quindi non è una buona idea uscirne adesso finché aspettiamo eh infatti sto aspettando questi sei secondi eccoci qua io ho preso la spira polvere comunque no pure tu no come pure tu lezar sei l'unico con radar c'ho radar ok ma non dovete fare sia il radar che un'arma dovrebbe essere due robe separate mi siete già trasformati? io sì ma Salt Cycle Fades ah perché la serie è anche io l'audio è inesistente però aspetta ah ma ogni volta ora buttiamo giù gli oggetti troviamo tutti ok ho delle interferenze qui dov'è? è a metà però qualcuno è qui è a metà sarà sopra oddio c'è qualcuno qui dove sono io eh probabilmente vengo a vedere sì 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 grazie a Majima per i tredici mesi mi ricorda che i Night and Six si poteva fischiare che cazzo di spaventare no scusa scusami ragazzi io non mi ricordo come è qui è qui più qua eh sì sì è qui in giro come si guadagnano soldi no ammazzando la gente vero? penso proprio sia qualcosa vedete io ho la traccia ectoplasmatica lo dico nella mia chat che è lì in basso a destra e devo muovermi addirittimizzato ah l'ho visto dove? è qui da qualche parte dove si trova? bugalo che cos'era? non so che fai là sopra non so come ho fatto ma è fighissimo che paura è lì l'ho visto dietro dietro è scappato è scappato è dietro davvero forte ma Marco ti sono un ragazzone eccolo eccolo prendi l'aspirapolvere l'ho colpito ma è viva ancora come è così? l'ho ucciso prendilo prendilo aspira aspira mi sono messo nell'unica stanza sono subito entrati ragazzi c'è qualcuno anche qui dove siamo noi un picco qui una botola ragazzi attenti che ci cadete eh l'ho visto semo semo pirla no sono tornato dentro vai aspira 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 sono più difficile per i fantasmi ho rimasto solo io abbiamo altri due minuti no Moro mi ha aspirato maledetto sono caduto in un buco ha visto come hai visto? mi ha tirato una botta mi ha tirato aiuto eccolo Franco no aspetta fammi l'intervista la fantasmia è impossibile scusami è difficile perché ti devi muovere sempre è molto piccola muoversi è infattibile perché la mappa è piccola ti sgavano subito vabbè attenzione vai bravo Moro complimenti grazie io salgo di livello io no io proprio no assolutamente no ah ma aspetta ma questi sono eh ma gli shard sono 125 ma quindi gli shard si sbloccano e poi la esatto ah me la sblocco all'infinito io poi dopo il berk buono che si sblocca con le private si sblocca ok ho capito io pensavo fosse in game mi ricordavo male cioè ho capito male ragazzi ma è troppo difficile però il game mode era diverso ragazzi qui adesso c'è effettivamente qualcosa da fare quando si fa adesso siamo noi i fan d'agmoni c'ho 775 punti posso no perché costa 500 si no chi prende il radar lo prendo io eh io prendo il io prendo l'aspirapolvere allora ah lo prendi tu prendo lo spectral camion trickster ma che bello il camion l'audio della musica che è altissimo ragazzi nascondiamoci è grande ma non così grande è molto simile a witch it è vero che anche witch it è vicino come gioco ma amici ma il quadro dietro di me scusate ma perché abbiamo un neon qui ragazzi ci dobbiamo nascondere adesso divento un portone chiapa fantasmi ma stanno qua con le maschere antigassi perché stanno andando a scurare i cessi perché i fantasmi sono fatti di nitroglicerina che paura scoprirla ogni volta Mario si chiama stile il coso il neon dentro il furgone si chiama bello guarda che è Marco questo qua che si guarda il telefono sapevo io guarda che sta guardando Instagram io sono a destra io sono insieme all'altro allora sei tu che guarda il telefono e sono seduto su un foglio di carta ma io dietro sono Charlie Chaplin o Mortimer si non c'è il fuoco amico ho sparato più volte agli altri ma strutto perché l'hai fatto e perché mi passavano davanti non mi sentivate giusto? si allora qua ragazzi c'è un coso sicuramente qua c'è un coso sicuramente c'era questo? no c'era come si dice non mi viene in mente vabbè tirate fuori quello che dovete fare qui da me qui da me ok qui da me non lo so qui da me vai apritemi la porta non riesco ad aprire aprò io aprò io aia è la porta non è la porta si secondo me è scappato mi ha dato una sportellata nei denti la porta effettivamente era strana ma è questo? è la scattoletta di ritorno non è non è non è non è che ricarico ecco perché non si apriva ma hai messo hai messo tutto il tavolo davanti alla porta è la sedia l'hai ucciso? è morto? ma è un espertone Morelli ma come fa? ho succhiato solo umido l'avete ucciso? dove è finito? l'ho ucciso? l'ho succhiato io l'hai succhiato? ok lì non l'ho succhiato ok com'è l'audio? ciao Alps buonasera ma questa era giù anche prima? che palle mi hanno giucciato eh? cosa ti mi hai giucciato? niente non vi il P greco che fai? è tutto troppo bello sì devo passare l'audio ciao però scusate un attimo ma noi ti possiamo sparare l'infinito è completamente OP come cosa non so il fantasma sento freddo sento freddo dove è? questo è il gatto sono io sento freddo e tira fuori il cellulare Marco che guardia madonna sono venuti morto come non ce l'hai? carimusa sono carimusa? io ho aspirapolvere bombolone guida mi carimma e qua 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 da me qua da me? sono qui con te? è la poltrona te lo dico io è la poltrona non è non è non è non è credo che sia qualcosa qua sotto la mortona si è mossa però eh l'ho distrutta ma era fatta di pietra la mortona ma scusa io feel chill attento carim non lo so ti ho visto blu più avanti impari altre abilità e quindi diventi più forte ma c'è una botola continua a cadersi è impressionante non ce la posso fare ma c'hai un fantasma ma c'è due minuti e carim si congela ogni tanto ma il fantasma è l'abilità del fantasma non è che è un quadro ma non posso avere solo io il radar però se no sto qua eh ma infatti abbiamo sbagliato eh sì io pensavo che ne avevamo una a testa invece no un ce ne può avere due dopo facciamo così carim prende l'aspirapolvere noi due il radar ma no ma io il radar adesso qua segna al massimo però dove te lo segna? eh mi sa che è la zona globale quindi devi stare veramente a cercare è un casino ma la scada sta saltando la scatola salta perché? ci sono anche delle abilità tipo trickster è qui è qui è qui è qui ma l'ho alzata io ma me lo segna al massimo qua eh guarda è questo è il frigo è il frigo ma povero frigo allora io ho sbagliato ho sbagliato ti aspiro scusa ma io ti ho sparato perché quando tu hai sparato ti sei girato e mi sono spostato del frigo madonna ma sono bravissimi madonna ma come i campioni grazie alex manca a morelli che è in questa zona sì ha poca vita a moreno 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 morello moreno morello esatto vai carim guidami ci ha già finito il gioco se ho toccato c'è il gioco che continua a sgazzare i culi della gente dai che manca un minuto manca un minuto poi è l'ora sua mi stanno già andando tutti dai carim facci vedere questo? ma parlami sto cercando di capire aspetta perché abbiamo poco tempo che succede? è qui dove è? ma dove è finito? era tipo un mezzo candelabrino piccolino non so ho visto forse la sedia no mi sento chill no ragazzi non vincete vogliamo andare oltre la mezzanotte ci fa after ragazzo non sei finito moro adesso te lo dice e non lo posso dire è spaventissimo non sei finito carim guarda il coso non segna niente non segna nulla ero non è qui è tornato su il bastardo ma che fastidio sto fatto che posso congelare la gente mamma mia terrificante mi prego non lo fate 18 viene a prendere almeno un'altra di radio ma dopo torniamo tutti incazzati ragazzi vi cazziamo carim senti freddo sto provando mi starà lentamente mi spavola F no è tornato ma che cazzo di pugno madonna un po' più ragazzi ho spaccato la faccia mi avrai che schiavica che sono ho ucciso uno ma non riuscivo a uscire ma è un G è arrivato dietro ma è morto spaccati tutti Marco vai Marco dietro è la tua sinistra dietro di sotto è con la G che si esce dagli oggetti vai Marco vai Marco colpiscilo peccato 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 bello siamo freddo adesso è stato figo è stato noi siamo delle seghe fuori fantasmi sono stato fenomenale io dovevate perché io come ero stelte perché mi sono sopravvissuto no no cambia subito la mappa da solo ma questo gioco è fatto bene no a me ha dato me stesso Eliezer next shard ma quindi anche scusa l'MVP lo dà diverso a ognuno no perché Eliezer l'ho ucciso tutti alla fine io ne uccisi due io ne ucciso uno tu hai ucciso un fantasma prima ah vabbè io ne ucciso due top hunter mei coglioni modestamente come si chiama questo gioco midnight ghost hunter adesso io ho mille punti anche io posso sbloccare qualcosa con mille o quattro c'è questo radar l'ho abbastanza shard no sì dai l'ho abbastanza shard dobbiamo vedere se c'è un modo per cambiare squadra adesso hai chiamato la mappa? sì sì siamo alla salium non so cosa parla salium sì non siamo io ho preso il telefono io ho preso la flamethrower è un alimentari la salium tu sei un cannoncino Antonio ho preso il lanciafiamme praticamente wiii io sono delle armi è bellissimo con la G con la G no la G con la E con la R forse devi cambiare categoria penso sia cambiata vediamo Vuoi sederti? Non posso, peccato Sono stato in silenzio tutto il tempo Come se mi potesse sentire E' giusto, è giusto, Mary Aggiorn Cos'è l'orario? Ah, l'orario è giustamente perché a mezzanotte Scatta il momento Di solo godimento Complimenti ad andare Gli ultimi 5 minuti E' bella grossa sta mappa Non è la stessa Non vedi che siamo Non sono nel camion Giustamente Va avanti di mappa da solo Ma mi senti, ero mutato Sono stato mutato fino ad ora? No, non lo so Non so capendo, vabbè In realtà non è così grande Come? Abbiamo sentito tutti Che sei bravissimo Non è vero Infatti abbiamo vinto Ah ma questo c'ha carica però No, credo che si ricarica Ah no, sì Questa mappa Questa volta andrà bene Adesso vi abbia lasciato vincere la prima Abbiamo già capito tutto Abbiamo studiato il gioco Platinante Eh sì 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 Mi sembra molto più grande sta mappa Sì sì, c'è anche il sotto Aspetta, ho inizio ad avere dei A Silvano Mannaggia la miseria Sì ragazzi L'hanno mostrato anche al Future Game Show Sì l'abbiamo visto domenica Sì no, questo gioco qua Mi sembra che era uccino Ah e vabbè ragazzi Ma c'è anche il sotto mappa Ha buttato palesemente No, dietro Zitti Dovete stare zitti Audio, audio Che palle Audio, audio Come power Audio, audio Dov'è, dimmi dov'è Non so, c'è nessuna attività C'è nessuna Aspetta, aspetta, aspetta Vabbè, vabbè Dimmi Pipì Dove, dove, dove Qui c'è qualcuno C'è il male di pancia È qua, da qualche parte qua Potrebbe essere anche fuori Allora Ma che fai? Sta arrostendo Eh ma è qui Uh, è qui, è qui Scemo La segnalo a rotelle Scappa, prendetela Oddio, aspetta Questa Eccola Scemo No, non è più quella No, avrà cambiato Avrà cambiato No, come ha cambiato Maledetto Non c'è nessuna attività Diventa Un po' di qua Non lo so Però so Adesso ho capito come si gioca Eh, anche io Io non lo so Adesso vi faccio sapere Poi, una cosa Se Aspetta Non rilevo niente Che cazzo è stato? Ma è gigantesca Stamma poi Siamo tutti dopo Dopo la live Ecco L'avevamo quasi trovato Quel maledetto Lo sento Ma che fai con il fondo In mano qua? Ma Qui non c'è Aspetta, aspetta In sta direzione qua Dove, dove, ti seguo Ti seguo Vieni, dove, dove L'ho visto Che cos'è? È sotto Sotto? Sotto di qua? È vero, è sotto Dove, dove c'è il lizard Porca miseria Andiamo, andiamo Aspetta Oh, 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 oh Che bestia Mi infilo sotto Non so come però Oh no, l'ectoplasma Aspetta Ah, di qua mi posso infilare Ma non capisco Non me siete solo sciocchini Eh, sì Do chi stanno sparando? Ma che ne so Ma ragazzi Mi stanno cerchiando Davanti di voi Non è possibile Aspetta, aspetta È che lo ribecchiamo Ciao, Karim Qui va via Quindi è qua Aiuto, aiuto È qui È qui da qualche parte Non è scato No, non è qua Non è qua Ma sì, era qui L'avevo visto prima Ma non è andato Su porla scala Per forza Ma no Senti ancora qui Ah, fai il culo Ma Amici Come non li trovi È qui Questa bestia Braccalo, braccalo Sparo tutto, sparo Spacco tutto, spacco No, è sparito, è sparito Non c'è più attività È morto Non lavora più adesso Non ce lo farò mai No, è di nuovo qui No, è qui Eccolo Qui, non è qui Oh my god L'ho preso, l'ho preso C'è trasformato È lì Eccolo, abbassardo Giuncialo, giuncialo Dovete resistere un minuto Io non posso ciucciarlo Lino ciucciarlo Eccolo Lino ciucciarlo Io ti dico solo Che ero Uno sgabello All'ingresso Del giardino E non m'hanno visto Ah, c'è dell'attività sopra Terzo piano Secondo piano Primo piano Vabbè, è uno di quelli Eccoci Sì, sì, sì Bazzino Ciao, loxì Ciao, uno Ah, ma va a capire Un cazzo Stanno Maledetti Eh, comunque Jammo che è più grande la mappa È fattibile per i fantasmi Prima era troppo Anch'io ho preso Sto microfono direzionale Ma Ti è, scemo Scemo Dai Ho trovato Sta scappando È diettato la sedia Resistete Lasciatevi stare No 10 secondi Aspira, aspira Dov'è la spiritura? E non c'è 10 secondi No, non lo troverò male Eh, vabbè Non lo troveremo male Eh, ora stai qua Perché lino se risorge No, no Ci sta Mi cazzando Ci siamo Ci siamo Mamma mia Come si scappa? Ti è, merda Distrutto Morelli È una miseria Ma quanta vita c'hai? Mori Mori Ammai tu c'è un altro Ho pensato molto meno Diamo, andiamo Andiamo Che manca uno Eh, si fa Ecco Yes E non c'è mai Che possibilità È giustamente Ci sta in realtà Che sei Io continuo a preventare È vero Dovevo mangiarmi le anime Dovevo mangiarmi Non l'ho fatto Che gioco È bellino Sì, ci sono le anime In giro Per curarsi No, ci sono quelle Per curarsi Ma anche dopo Che hai ucciso un umano Da fantasma Gli devi assorbire l'anima È molto divertente Sì, sì Quando li uccisi C'è il troll Grazie Trover muori Grazie Bello Grazie anche alla Roby Prima per il raid Grazie belli Grazie mille Grazie grazie Come era da voi Sta stronza Che vuoi Bastardo Almeno un altro radar Perché se no Da solo Non ce la fanno Grazie Quando il radar Non il telefono Sì No, che riprendi tu L'aspirapolvere Ma scusa Ma il radar è quello giallo? Sì Lo prendi tu Marco? È fenomenale Lo prendo io Dai riprendo l'aspirapolvere Io ho preso L'aspirapolvere Ho preso L'aurea che cura Da fantasma No, no Da Ah, come perk qui Ci sono delle cassette In pratica Se mi lo fermi Il deathgriff Gli metti una sorta di Amici Vi ricordiamo brevemente Punto esclamativo Dona Se volete donare Per l'emergenza in Ucraina Sia da me Che da loro Anche da me E anche da Lino Tripla Sesso comando per tutti Quindi a posto Sesso comando Soprattutto Perché Ternus non aveva ancora visto La patatibe Mamma mia Che live Sono un po' in dubbio L'hanno spammata prima da noi La patatibe Eh no, io l'ho vista in diretta È stata una Un'esperienza magica Ragazzi Ho trovato il posto Dove mi devono ascoltare Questo gioco Che sta presentato Nell'ultimo set of play Pensa a te Che musica c'è poi In questo camioncino Che è stato presentato Quattro anni fa ragazzi Non nell'ultimo set of play Secondo voi Almeno due anni fa L'hanno detto Al tre sicuro Secondo me Allora Dai, radaratemi Allora Mi sento inutile senza il radar Chi è? Che succede? Se mi vedono Ha volato Una sedia a rotelle Non l'avete visto? No, non l'ho vista Ma perché sono entrato Dentro abbastanza spedito Carim Alle 3 2019 Che c'è adesso? Ho visto che hai missato la porta No, l'ho premuto Si è aperta verso di te Non so che è successo Vediamo Sei finito contro Qua, qua, qua da me Da me, da me, da me Qui È sparito adesso Era qua era Ma io l'ho visto Che era Ma io l'ho visto Aggiungo Molina Come si fa alle porte? Tendilo Marco Tendilo che arrivo Non c'è più Non è successa Questa storia È finita Nel castello Qua per terra Non c'è più No Eh, avevo detto che ho visto qualcosa Ma quindi Ah, ma forse era un oggetto piccolino L'abbiamo Ma ucciso Ucciso lino Ucciso lino Arrivo Ragazzi, Moro può uscire da tutto il terreno Credo Come? Che vuol dire questa cosa Perché proprio io E mi ha preso dai piedi Perché sei tu quello che esce dal terreno Chiaramente No, sarà l'abilità Sarà No, no, non ero io, Mar Come no? Ridevi quando mi sono girato Che palle Ragazzi, c'è un pistolino Noo È Moro, è Moro Ho visto la vita Dove è andato? Lo spiro, lo spiro Eccolo qua E che cazzo I piccoli giustamente non hanno vita Eh no, infatti Sì Amici, io ho paura Non voglio più andare da solo No, c'avevo un'abilità bellissima La sedia nella schiena Non l'ho girata io all'inizio Ma Mi hai preso dai Ah, ecco Infatti l'ho vista partire Ma guarda Ma guarda Ma guarda Si è girato L'ho visto Trovatemelo Ma dividetevi magari No? Che avete lo stesso Sono Adar Pensavo mi stessi seguendo tu, gatto Ma io ero davanti a te No, io Scusami Era davanti a Marco Era Marco Io sì, ti stavo seguendo Però erano loro Voi due Siamo io e lì Ragazzi C'è uno di sotto Maledetta lei Eccolo Gli stavo giustando il calo L'ho visto Dov'è la mia spirapola È sparito gli Ezar però Ma respolla Poi gli abbiamo tolto tanta vita No, io ho visto i pezzettoni No, questo è utile No, ma poi è scappato Non è morto, morto Si rallentano un po' È più voglia di qualcosa di buono È la sedia Fogli la previsione No, l'ho fatto il giro di verde No, l'ho coltrono No, l'ho coltrono Non ci passi Il barile, il barile Arrivo che mi sento chill Il barile mi ha stoppato È qui, mi ha preso, mi ha preso Dov'è? Cazzino Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Era un trappolone era Amici, no, gli manca una cappina Non è questo? Non è questo? Lasciatelo stare Ma che cazzo di mosse c'ha? È qui, è qui Arrivo Non è morto? Non è morto? No, no Le maniche ti prendono da sotto È un'abilità Non è lui Sì, sì Lì, l'ho visto Ho visto una palla Io l'ho proprio visto C'è una cappina Non era al potere Dov'è? Dov'è? È lì, vai là Mi rallento No, giuro, è lì Vi do una mano Cos'è sto letto In mezzo ai coglioni Sto giocando con voi Come? Non si? Non si giuda Ma credo di averlo ucciso Ragazzi, è qui Freddi, Freddi Fai come si... Esatto Sei sicuro? E qua è un barile Sì, sì Lo sto inseguendo Ma facci il cunno È sulle scale Sulle scale Guarda che porcello Guarda che porcello Eccolo Sì, scappa dietro Yes No, dai Cisti Lo spiro È tutta col farlo Ragazzi Quell'abilità di merda Si attiva da sola Ed ero lì vicino Che palle No, ho fatto 0 più Adesso avevo tanti soldi Hai rotto a Foghost Con 0 punti Ma scusate Da Dallomec L'ho fatto E non ha messo il laser Che è stato l'ultimo a morire Sì Sono preronta Mi sta piacendo Mi sto divertendo Sì, mamma mia Però la map Adesso vediamo le mappe Perché spero Ce ne siamo un po' Perché altrimenti Questo l'abbiamo già visto Diverso No, possiamo al teatro Ragazzi Bello Quindi Karim adesso fa il microfono Sta lì e sfermo e parla È item sick Cioè Qual era quello dell'acchiappamento Ah, dance grip avevi Sì, quello lì Io c'avevo lo sto Spectrofon Fa schifo Bello questo Ma io adesso li tengo Sti punti Li uso proprio Io vorrei comprare qualcosa L'abilità Phantom È quella che mi piace di più Ah, ficata però ragazzi Le cose che sbloccate Rimangono sbloccate Eh, sì, sì, sì Si sbloccano e basta Allora, risblocco proprio questo Ma è che mi hai preso tu Il spectrofon Che è direzionale Però è quel microfono direzionale Anzi, queste Posso comprarmi È servito? Ma è l'aunt No, mai Fa schifo Benissimo Se mi sa che è una chiave Ok Qua di oggetti ce ne sono tantissimi Io compro questo Dai, compro questo Il defibrillatore lo reputo abbastanza inutile Perché una volta che Parte il delirio Col cazzo Mi metto a restare uno Vabbè, però può essere Dai Eh, dipende dalla situazione Molto situazionale L'aspirapolvere, bravo Eh, prendi l'aspirapolvere Ma che bella questa mappa qui È un teatro Eh, sì, grazie Marco Senti la musica anni 80 Che bella È davvero bella sta parte qua Magari di dire avvisolato Ma ci sono gli Oscar Guarda, adesso mi arriva Will Smith E mi tiene una sberla Solo che Non so se avete notato Ma siamo seduti su una panchina All'interno di un camion Senti che mi parla col gruppone Tutto È la mia voce naturale Ormai questa Le specchie Giustamente perché sono i fantasmi Io ho cambiato arma Adesso ho questa Anch'io ho cambiato arma Io ho il mitragliatore Allora, vediamo un po' Io seguo qualcuno di voi C'è dell'attività Eh, l'ho già scavato Che male Pensateci voi ragazzi È lì, è lì, lì Ma scusa, mi ha tolto tutta la vita Sto maledetto Effettivamente non ci abbiamo mai pensato di spaccare la faccia agli Hunter Non camion Ah sì, ancora lui Andiamo Ma è fortissimo Che risata da fantasma malvagio Eh sì, sono io Sono un fantasma La sedia, la sedia, la sedia Ma come hai fatto a cambiare così veloce? Eh, basta che in selezione clicchi, Lino Ok, Marco è morto Ah, ok Aspirati, ho visto che non l'hai fatto prima Ho detto, provo un attimo a suonare con la trombetta E mi hanno sentito subito Marco, oddio, finalmente Ecco, come finalmente? Oh, oh, aspetta, aspetta Era un pianoforte, ha iniziato a suonare Sì, c'è, dietro, dietro, dietro il divano Eccolo Sì, scusa Ciao, Dani Ecco, Antonello, Mario Nooo Ragazzi, ma io sono deperito Nooo Lo ciuccio, lo ciuccio Eh, sì, però Gli ho fatto malissimo a tutti Ragazzi, vado a su play Ma come facevi a farci mal? Mi hai fatto la buona Mi lanciavo dietro la roba Tu il tutorial dove l'hai fatto, Lino? Eh, ma l'ho fatto prima L'ha fatto, eh L'ha fatto e mi ha anche detto Ah, ma se ne ho fatto tutto Ti ho anche spiegato alcune cose Ti ho spiegato le cariche, mi ha spiegato Ma tu hai fatto anche quello da fantasma Sì, sì, sì No, no, tutti e due Però l'ho fatto troppo tempo far Ma io non ricordo Ma perché spari all'ezza? Perché a me piace sparare un po' a tutti La fantasma è sicuramente veloce E la mappa di zombie di percorso Sparare sia i gattivi che i bravi Sì, beh, è un teatro Eh, vabbè Bella Ok, c'ho dell'attività Dove sei? Porca mignota Però è poco Però è più o meno Bella sta mappa Minuscola Però carina Ah, ma io Cioè, sono gli altri fantasmi Che ti fanno il freddo Non quelli rimasti Sì, sì, sì Sì, sì, sì Come sarà? Eh, perché io non ho come trovarli Devo stare per forza con loro Aspetta che arrivo Non funziona Sarme è un po' una merda Secondo me Io che fa il tutorial Glielo ho detto io, eh Sì, sì No, è vero L'ho anche spiegato Ho fatto il tutorial Perché hai detto Fai il tutorial Perché se dopo dicevi Bu 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 E quindi l'ho fatto Esattamente come è andata Però delle volte me lo dimentico Il tutorial No, io l'ho fatto Non deve niente da fare Marco, diamoci i bacini Rubiamo il cazzo all'inizio Sto stai agghiacciando Quanto? Eh beh, è anche una doppia Una doppia Ma che cosa è questo piano? Vai 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 E dai No, non te ne puoi andare Ma non è possibile Corre Ok Amici, dai Occhia Peppe Ciao ProWok Allora, è rimasto solo Karim Ma secondo me si sta tostando Sarà una cosa minuscola Chissà dove Eccolo, è qua Ragazzi Non è vero Va da me Arrivo Dove sei? Ma veramente Sì, sì Dov'è? Porca bestia Non è giusto che non hanno il danno da caduta Arbitro Ok, sì È qua È qua Sì, sì È decisamente qua Eccola la pianta Una pianta Una pianta Una pianta Una pianta Una pianta Scappa Karim Scappa Scappa Karim Te li congelo Mi fermiamoli tutti Dove siete? Io sparo a qualunque cosa vedo È diventato me È diventato me È diventato me Oh mio Dio Lo sapevo Come è diventato Ma che cazzo di park è bellissimo L'ho perso L'ho perso Aspetta Bellissimo Quel park Che si sparano a vicenda Un cazzo di park è incredibile Guarda se ci fosse il fuoco amico sarebbe incredibile questa cosa Scappa Karim Ma ci vuole Ma sei di pietra Ehi là Fermo Moro Fermo Moro Guarda come che giazzo Gli ho congelato il culo Gli ho congelato il culo Si sposta solo con i teletrasporti L'ho visto Ma è bravissimo Karim Ho visto Ciao Paci Scappa Karim Fermiamoli tutti Fermi Ti prego Ma sono lento Maledetti Scazzatore Ti voglio bene Ma fermati Karim Musa ce la devi fare 30 secondi Vai 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 Ragazzi non può essere È uno Dai che è andato Dai che è andato Congelali Congelali Marco Ma le cazzo è Che schifo Di arma Terrificante Porca troia Ti spetta Dai di qua Sono io Non si devono muovere Al polo nord Mi odio Ciao di a sé Bellissimo Quel perk Bellissimo No È una sedia Non è vero Perzeccate Per 5 mesi No 8 secondi Che sfiga Non potremmo fare niente Ho troppo Pogra Bellissimo È stato incredibile È stato bellissimo Il perk Che cazzo Sì l'ho comprato Senza dire niente Ma il perk è stato dopo Devi rivedere Ho visto uno davanti Mi giro Ero un buco dietro Ero un buco Io avevo il perk Per lanciare gli oggetti E loro gli sparavano contro Eccolo lì È la sedia È la sedia È diventato un l'espitore Che bello ragazzo Cazzo ma man mano che sblocchi Diventa molto più divertente Eh sì I perk sono fighissimi Eh sì Adesso vediamo anche Il lato aspiratore Se i perk sono fighissimi Eh sì Beh le armi Ci sono anche altre armi Comunque Eh adesso vediamo Fervantaggio Ci sono le trappole Anche da piazzare È che non volevo spendere Troppi soldi Da una parte o dall'altra Devo fare un quality Eh tanto li sblocchi Quindi ho uno o l'altro Sì Adesso non lo sblocco niente Però vedi qua Come il melee weapon Non usa batteria Vedi ci sono anche Le abilità da fantasma morto Sì c'è il chill Poi c'è il chill Stai tranquillo Però puoi lasciare giù Le cure agli altri Bello L'allucinazione Ah bello il pathfinder Ho trovato un'arma interessante Ho preso il mitrino io ragazzi Ho trovato un'arma interessante E un gancio Che se io mi sparo No non è però Me lo porto dietro il fantasma Lo porti dietro Sì sì ho visto che c'era Quindi io lo aggancio Voi lo massacrate Ok dai Io prendo le trappole Come i ghostbusters Allora Voglio provare questa abilità Un secondo Amici ricordiamo che le sable Le ingazziamo dopo C'è questa abilità Marco tu cosa prendi Sempre la radiolina Io ho preso radar Sì radar è mitrino Che l'ho sbloccato adesso Eh Karim prendi l'aspirapolvere Aspetta Non funziona Perché non mi ricordo Perché io ho preso Sì ho preso la trappola Ho preso Un radar solo quindi Sì Un radar Un aspirapolvere E una trappola Ok donai un bel postino Uff Mi bisogna prendere anche La tappa Donate per l'Ucraina ragazzi Bravo che lo rimane Un trasformativo donna Bravo Ma la città è bellissima Sono pronto Tu sei bellissimo Karim Vabbè? Ce ne andiamo a fare un giro Tu sei bellissimo Eh figo Grazie Ah figo Secondo me questa andrà Ma la trappola avrà gli usi Nel senso che la uso una volta E mai più Sarà il radar è impossibile giocare Che come fai? Eh sì Devi stare per forza un qualcuno Tutto con il lanciafiamme Ok la trappola ne ho solo una Quindi dove credi Io lo butto giù E poi spariamo Ma amici ma qua mi dà Ma cos'è sta musica? Eh no qua dà qualcosa eh ragazzi E allora ce ne sarà uno vicino Dove? Sì qua Eccolo E' finito E' finito Sicuramente è finito Però è partito da qua E' attenzione No ma qua c'è ragazzi Lo sento E' qui E' qui Sicuro Guarda lì Guarda lì Non è la piazza Qui è il Pieno corte Ma non muore mai L'ho preso L'ho preso E' la teglia Il piano Il piano Il piano E' la sedia E' sceso giù Ma cosa serve la mia trappola Di grazia Mi sa che ha preso Il pinto E' lì Non era qua No no è qui Ma schifo il mitrino Può cambiare E' qui L'ho preso Ma che volete la messa Dov'è Dov'è Ecco è qua E' questo Ma perché diventò degli oggetti giganti Aspiralo 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 E' sopra E' sopra Sì era sopra Che ansia Il radar mi segnava una leggezza Sarò bellissimo Andiamo Marco E' perché loro adesso ci sentono Dove stiamo andando a cercare Che fatica Allora Ma vicino Ecco Aia Questa è la mia abilità Che succede Mi hanno sgamato E' quello lì E' il barile Marco Barile Nooo Ma No Dai dai Ho preso Ho preso Ho preso Sparato Aspiralo Aspiralo Quello lì Lo blocco Quando io lo blocco Voi sparategli Perché non può scappare E' da attivare la trappola La piazza Ma non l'ho pinto Comunque è una merda Ho aperto qua Che c'ho io Quello dei suoni Veramente terrificante Ma me lo punta di qua Ragazzi è qua in zona Non so come funziona La trappola a sto punto Perché E' qua in zona Però tiragliela Quando Lo prendo con il gancho Ma l'ho fatto prima Molto evolve C'erano i mostri da uccidere Cioè questo qua E' we cheat E' we cheat praticamente Marco devi dirmi tu E' ma in questi Potrebbe essere sopra No non è da attivare al generatore Ragazzi guarda un altro generatore Bello il primo Sentite i suoni che vi sto facendo io Giusto per spizio No ho sento un bordello E spari Allora proprio ve lo consiglio Non comprate Il perk dell'audio da morto Perché sono soldi buttati Ma anche Moro lo aveva detto Non l'avrei mai comprato in vita mia No 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 Come? Non è quello che dicevi prima tu Ce ne sono diversi però Perché c'è quello che fa i suoni E quello che fa le voci tipo Marco dimmi dove andiamo Play gross sound questo fa Mi chiedimi che si è preso bene Spara a tutto E no perché tanto si ricarica Quasi istantaneamente Solo che Marco mi serve Sapere dove Eh mi piacerebbe sapere anche a me Possibile trovare Dezza Eh forse c'è un'area Però non me la segna Mi sa che è qui eh Beh a me non segna niente Ma però qualcosa lì ha volato Come sono? Ma è stato Karim che ha ribaltato tutto È possibile Eccolo è qui Vai vai Però mi sa che era Pasullo? Non lo so Non gli faccio danno Invece è qui No no è lì è lì È questo Eh sì è questo Stai zitto Tu cosa vuoi? Ma è quello Ti giuro Ma non è qui ragazzi Non è qui Non è qui Eh ma se si è mosso Ah che paura Mi ha tirato Ma non è capito Ma sei mosso da solo O te l'ha tirato lui? No ma non è L'ho preso La trappola ha funzionato No la trappola ha preso La trappola ha fatto un coltivo Aiuto Ma non funziona Ah io mi ho ucciso Che è successo Che è successo Non c'era io È passata la mezzanotte Vaffanculo Ecco perché Ma mi scusi Bam nell'orecchio Mi ha sembrato il mio personaggio Grazie Lars Grazie Gattore per il video che fai Grazie mille a lei Che è massata Che è massata Che è fuori Ragazzi Porgiamo almeno il 3500 C'è stato un drop Che è amoroso Dai Dai Non mi faccio mai 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 Vieni c'hai che Gli FBI Yankos part In the sky Andiamo ucciso Come di uno sunka Scusa È uno lì È uno lì Aia Mi fai male Vieni qua Non mi faccio mai Non mi faccio mai Sono morto Dai Vai Marco Vai Marco Vai Marco Vai Marco Nooo Cazzo Ragazzi, mezz'ora sono stato bloccato con un divano in una porta Non so perché La trappola ha avuto un senso alla fine, ma troppo tardi, purtroppo Ragazzi, ma il mitrino Non serve a niente, sto mitrino, sparavo fagioli In realtà, comunque, cioè, credo che voi dovreste scappare Sì, però voi siete molto più veloci di noi Non sono riuscito a raggiungere mai quel bastardo di Marco Ma ha senso che voi siate più forti e più veloci perché avete vinto Non credo di troppo Come te, John, ad esempio, non sei super Grazie a Dertroll per i quattro minuti Hai dei dubbi? In un gioco PvP è ovvio che vingo io Dove si mira? Ma prima non sei molto subito È sempre molto subito No, no, era per dire, per fare due parole Fammi credere di essere un uomo di qualcosa Ma c'è la granata, anti-ghost e explosivi granit Ma a me è la possibilità Perché sono franco, ciao Naomi Sto leggendo le altre cose, ma mi piace Ma è radar, bello Ci sono anche le passive, ci sono Ma sì, vacuum C'è anche quello per inculare il radar, c'è Mannaggia Voglio provare a fare questa cosa pazzesca, pazzurda Ciao Clay Ciao Francesco Una vita di conoscenza Ah, c'è anche l'autocura Ma cos'è sta canzone adesso? Wow, wow Tanti saluti a tutti, anche a lei, grazie mille Hello, hello, ma mi sentite in game? Eh sì, non farlo, sei drogato sto qua Che beh Ma sei tornato nella mansion? Scusatemi Ma che stronzata Ma non poteva farmi tutte le mappe Perché sei tornato qui? Non c'ho soldi Eh, ma perché ne fa random E poi l'ha chiesto Mi sentite in game? Mi sentite in game con la fan Ok, project X Project X Mi sentite in game Ragazzi Come si fa a parlare in game? Voglio anche io parlare in game Con l'amici mi prendo Con il radar Ma non glielo dire? Tu? Ah, ecco Ma olino, tu mi stai sulle palle Edy Murphy In game Eccoci No, ma è caduto E infatti si può fare anche il tank Chi è che è caduto? Chi è caduto? In game No, abbiato Si è caduto Tutti l'invito Ciao, Zex Buonasera Vabbè, troviamo subito Uccidiamo Ma che c'ho nel mio orologio? Perché c'ho Non ho la rubrica di YouTube Ma che era sto rumore? Cosa? Ma che ho detto Un rumore incredibile? Bella La voglio seguire Di Padella? No, la serie Sui orologi Come DJ Francesco Era il suo Bella In sella Io ho sentito Karim Ve lo dico già Sì, anche io Ma sono caduto In un imbuto C'è qualcuno qui sopra Ah, parla con la rotella Ah no, pingo e parla Pingo, parlo Sì, è molto divertente Ok, uno è sopra Eh, lo con sodo Tutti i ghiacchieri Come ce l'ho da beccare Che l'uomo? Adesso lo provo, guarda Ti sconcico il letto Cosa fai? Sconcico il letto Non fai niente, hai capito? L'ho sentito il merda Dov'è? Se ci tieni così Ahah Ho trovato Maurizio Dov'è? Dov'è? Ma no, ma le stia lanciando Ma è qui da qualche parte Ah, fa il cattivone È qui, è un humus Sarà da qualche parte qui Che dolore però che fa Era qui dietro Dove può essere? Dove può essere? Com'era finto, ragazzi? No, è un humus Come era finto, ehi? Fallesemente finto No, non c'è più Non c'è più È andato via Eh sì, è qua sotto È di qua È che sono dubbioso È qua sotto, invece Chi è che mi ha fatto un rutto? No, ma sta solo lanciando le cose È il lusso che puoi lanciare la roba Dopo vuoi ricomprarlo anch'io Butto tutto per terra Secondo me è un lampadario Io ve lo dico Non sono manuto Ma è Marco che fa sto burdel di merda Preso L'ho preso? Eh, ma è una merda la mia arma Eh, devi vedere la mia Eh, ma esplode dopo un po' Fai in tempo a mandare via Oh! Che cos'è? Mi ha tirato un tavolino il merda Con una corruta veramente così Ahia! Ma dov'è? Sì, ridi! Sì, ridi! Ah, fa il culo È bellissimo Ma che moderatamente pericoloso Spero siete assicurati Perché mi spacco la faccia Merde! Ma dove si nasconde? Aspetta Caldo, asfalto la mia arma di merda Mi sparo ovunque E nemmeno lo trovo Ah, fanguto Non lo so Non c'è più qua, ragazzi Non c'è più Si è spostato il bigliaccio Mi ha detto Infame buco di culo Vi ho spaccato le facce, eh? Merdoni Forcaiolos E poi perché te le puoi buttare pure la roba a terra e basta Dai, due minuti, due minuti Ma nessuno abbiamo trovato? Ho sentito qualcuno fare fuoco sopra Me l'ha colpito qua sotto È qua, cazzo È possibile Sei morto, lizard? Ha, 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 ha Non ti preoccupare Sotto, sotto Ma il lizard è caduto Eh, qui che serve, è il titolo È qua sotto, è qua sotto Eh, sì L'hai trovato, Moro? Eh, sì, ma Siamo a fare il merda qui Cazzo Ok, ciuccialo Non ho che vado a rivivere l'hider Non posso Non ho la bottiglia, ciucciadoro Oh, sono uno in meno, eh? Sentito, sentito Ragazzi, sono uno in meno Adesso sono solo in due Ma come hai fatto a ucciderlo? Purtroppo, purtroppo, sì Lanciandogli nei denti la roba Ma mamma mia Mi raccomando, tecnica Bastidio, brogo Bastidioso Eccoci qua Non ti preoccupare Guarda che adesso faccio le grandi tatticone Secondo me qui non c'è nessuno Ok, Karim è troppo silenzioso È ancora vivo? No, Moro, mi ha vacuumato Chi spara? Chi è che spara, Lino? È qui, Lino! Dove, dove? Arrivo No, mancano 45 secondi Da qualche parte qui, maledetto Mi va a zettare i rex per 5 mesi Mi vanno? Ah, sì Sono rinascosto Sono qui, sono qui, ragazzi Sono qui, sono qui Senti, sono qui Sono qui Mi vedi? Usa il radar Sono qui C'è qualcosa Sono qui Sì, lo so che il 500 di si romperà di radar pezzotto Che fai suoni Secondo me è una bottiglia Moro, sono qui, eh Sono qui, Moro Mi senti che sono qui Che maledetto, ma Sono qui nel radar Sono qui Comunque l'arma è troppo una monnezza E lo dico Se si chiama Perché si riscalda subito Fa schifo, bro Maledetti Non c'è niente qua Eh, ragazzi Dobbiamo sopravvivere Usa il radar, usa il radar, è qui Scappa Scappa, Moro Come si scappa Oh mio Dio, un animale Buono, l'Ezar Maledetto, carino Mi ha dato uno schiaffone Oh my god, l'Ezar ti seguo Che dolore Oh, che partidona Sono io l'hempubia adesso Maia, che schiappa dalla faccia Mamma mia, che botte, ragazzi Tutti a tre Eri troppo silenzioso Tutti a tre Mi stavi allenando Però nella cucina come teiera Non so se Quindi ti avevo visto Sì, sì Vai che riato, mamma mia Quel perché lì è bel Ma come? Ho fatto di tutto Ne ho uccisi tre io È vero Tutti e tre No, io ho ucciso l'Ezar Con dei mobiletti, eh L'ho restato tranquillamente Dopo, però Io l'ho ucciso Allora, proviamo qualcosa di figo Bravi, bravi Karim era troppo concentrato comunque Tra yarder Carina Eh, sono Cosa L'asciugamaggio Ho visto Lino entrare in cucina sette volte E sparare a tutto Tranne a me E poi, Moro Ogni volta che dicevi E qua e qua In realtà non era vero un cazzo Stavi trovando solo me Stavi trovando Che palle Ogni volta che Moro bastava Gli ruttavo Ah, ma perché tu mi sbliggavi Sì, sì Ti stavo sminchiando tutto Poltergeist Allora Qual è il Poltergeist oppure questa Le cinesi, secondo me Provo il cecchino Ah, non posso comprarlo Non c'ho un euro Bene Ho comprato un'altra arma La U è bellissima Non c'ho soldi, amici Quindi ce la facciamo No, aspettate Prendetevi il radar voi adesso L'ha preso Karim Ok Non c'ho un euro Non l'ho preso io Sì, sì Ce l'hai il radar No, io l'aspira Ragazzi Potete Potete continuamente Cambiarli in King Anche in game si può cambiare Ah, ok Dai resto qui E chi si muove Non sappiamo anche si stesse Anche Pathfinder è utile Non è giusto Certo l'anima di Leza Ah, giusto È vero che da fantasma La potevo fare Mi ero dimenticato Esatto, Lilo Come l'aspira polvere Ci mettiamo qua Ma che bella Che cosa? La statua si muove Di questa gomma Rinnovate 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 Per il counter Che ha droppato E soprattutto tonate Secondo me sì Va bene Non mi vedo Punto schemativo d'ora Ma amici Voi quindi avete Aspirapolvere Droga E radar Abbiamo noi Sì, sì 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 E voi tu Dai Mi parteci Ma tu ce l'hai La tua squadra Io c'ho quest'arma qua Che fa questo Ambiò questo Ma abbiamo la stessa Abbiamo la minigun Tutti e due Oh no ma si surriscalda Ma ha preso proprio fuoco Ma si è gravissima No La voglio capiare Control Che significa Cidro Sei pazzo Fare tutto Inizio a colpire tutto Chi è che c'è il radar È Marco Io c'ho il radar Marco dai Faccio io Faccio io Vi preoccupate Vi sistemo io Che dice lì no? Ahia Chi è che mi ha dato una botta? Ha tirato un pianoforte gigante Amici Bastardi usano le mie armi contro di me Ma c'è lo spadaccino che è spadaccina qua Perché è spadaccina? Dove è Marco? Dove è? Non lo so È da qualche parte Che succede? Che sta succedendo? È lo spadaccino Mi ha spadaccinato Ma in zona che vuol dire? Ecco 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 Guarda Vedi di per terra Tiro Che cazzo è stato quel suono terribile? Il pianoforte? Credo No Ho sentito satana che mi parlava Non credo No Allora Io ho sentito blau Usate un attimo Sì ma guarda bene No ma sono qua No ragazzi sono qua Sono qua Sì sì ma qua è l'ingresso giga megas Ciao Il giga No st'arma mi fa cagare Aspetta mi rimetto la base Ah esatto Io ho metto la base e fa scusa Eh perché almeno Sono un più performante E finita la mia trappola La tolta Ciao dux Buonasera Ah perché ho creato loadout Questo qui? Sì sì È qui intorno No Ho preso uno C'è di essere qui sotto Eh dai Sbessi dai Ho preso Ma porca Ma quella arma è un P Porca miseria Lo so che sei qui Lo so che sei qui Merda Dove è salito? Io non lo sapevo 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 Ok L'ho preso Vai 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 Credo Ok dai 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 Sei morto Ok Allora nel soggiorno c'era qualcosa Qualcuno comunque ragazzi Eh ma magari si è spostato Ah sì sì Eccolo è qui È questo piccolo cazzo È là la piantina Dai dai che manca poco Ah la trappola Scemo Sei capito in trappola Nooo Amici Mi mancherete molto Allora io lo so Dove è andato Cerca No muore morto Sembra è giacolo Quello che c'era la sua regalata Eh Linus Come di noi Eh bisogna No ragazzi Ma perché mi dovreste cercare Ti ha congelato Non posso stare fermo Perché sennò perdo le palle Eh potevo stare fermo per sempre Ma che divertenza c'è Aspetta È l'inno È l'inno È sopra da qualche parte Ma l'ho perso Un tavolo buono che conosco i proprietari Quark Vieni fuori Eccolo è la sedia Scemo Ma l'inno Ma perché arriva in su Sei pazzo La trappola non funziona Ah no Scusate Tanto di qui Non cadere i buchi Che arriva Sono caduto giù Non vedeo Benissimo Ma proprio quando Sei arrivato Mi sono mosso Ma perché gli sei Grazie Gira Grazie mille Se è per piacere Vederla Che quando Purtroppo La sera si lavora Non importa Grazie mille Per essere qui Era anche una bella idea Se non fosse Che eravamo tutti e tre lì Eh non ti avevo visto Sarà bellissimo Guarda Ghost sheep Ghost sheep Adesso si Adesso si Perché gli ho salutato Ciao Sei qui Da inizio live L'altra volta Ho salutato una persona Cinque volte Ma perché se non scrive Non lo do un po' Perché c'è il cazzo Di ciao Ogni volta che uno lo usa Fai ciao Eh vaffanculo Ciao Palle E donate 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 Per l'Ucraina Donate Bravo Cliccate Punto sgammativo Donate 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 Lino Qual'era la tua mossa Che facevi muovere Il coso Con chi stai parlando Non era Lino Che usava Lo spadaccino Ah la statua Se utilizzi la statua La puoi fare Ragazzi mi stanno scusando Per colpa vostra Mannare Voglio stare per tutta la mia vita Sì sì infatti Così che mi piace Questo Questo È colpa nostra Lino Hanno finito Sì la costa è sip Questa Oh finalmente Pi 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 Dai ma che belle le mappe così Voglio truccarmi La cosa bella La cosa bella È che niente Scusa Marco Marco Che cazzo Marco Non posso? Prego prego Mi offenderei se facessi il contrario Togli le cose Togli alert No 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 Va bene va bene Sono gli applausi distruttivi Sono contento Lino Così finiscono i ponti Eh ho finito dei ponti Costa mille che finiscono i ponti È bello Cosa vuol dire finiscono Eh Marco Fatti i cazzi tuoi eh Va bene? Perché mia mamma Perché tu mamma ti dice Fatti i cazzi tuoi? Allora siamo pronti E domani mattina Sea of Thieves Eh sì È turca Ma ancora? Vuoi giocare? No non ce voglio Scusa Ma devo Me devo venire burile gatto? Mi ha fatto ridere però ancora Ok Come sì? Dobbiamo fare le trame Dobbiamo fare Eh ci sono Ci sono Ma perché deve? Perché L'ho sentito Perché dobbiamo scantare la canzone di Rumatera Nel cazzo di coso La tieni La posta Lo ha giornalato ieri No Ma non fossimo ancora l'Ele Pare che ce l'hanno già messi d'accordo L'hai per sabato No un paio di giorni fa l'ho aggiornato Quindi va più che bene Allora Dove è andato il bastardo? Ciao Sintano Eh Marco Ah Vai sempre me poi Vabbè Arrivederci eh Meno male che erano impegnati Ragazzi c'è qualcuno qui Ma che cacchio Ma che cacchio Eh lì è dietro Spara, lo sparo Non era io! Non era io! Sto diventando tutti scemi! Chi è che ha la spirala? Lo prenderei io, lo vado a prendere io! Sono morto! Scemo, sei morto! Ok! Chi è? Che stanso! Che stanso chi è? Mi sono spaventato se devo fare un rutto! Che stanso! Pensavo fossimo ancora nella lobby! Hai capito? Distratto sei, concentrati! Allora, devo trovare qualcuno, quindi mi concentro! Ah beh, è il tasto per concentrarsi quello! Sì sì sì! Ho fatto il numero verde! C'è qualcuno con la brocchite! Mannaggia! Oh, meglio di Sea of Thieves sotto il livello, comunque! No, no! Non mi caricare! Chi è che m'ha inculato? Adesso è quello stronzo di Karim! Come sei caduto, scemo! Ma non capisco dove sei! Ma perché ti nascondi? Esce allo scoperto! Ma sono un fantasma timido! Poi mi spalmi sul panino! Guarda che è difficile la vita del fantasma! Ti spalmo sul panino? Ma che ca... Andiamo sopra! Un'uvasa a tutti quanti! Sono inermi, perché hanno paura! Sono inermi! Sono tranquillo! Ho una lacrima che mi dà fastidio nell'occhio! Cosa ridono? Ci prendete in giro? Sì, ci spottano! Che bastardi! Ah, l'acqua fa male ragazzi! L'acqua fa malissimo! E' una palla! E' una palla! Scemo la dina! Vieni qua! Sei una palla piccola! E' veramente una palla piccola! L'ho visto e... Dove... dove si è nascosta, eh? E' di qua! E' fuori, e' fuori! No no, è andato qua dentro il bastard! E' qui, e' qui! Cioè non so dove... No, se te li spara, quando fa così te li spara! Eh, ma sarà qua vicino per... E' una croce! Perché crede... No! Dov'è? Aia! Ma mi fa troppo male! Comunque fanno veramente un male cane! Sono quasi morto! C'è un modo per recuperare vita? Eh, credo di sì, però... Eh, esatto! La fantasma! Oh, ok! Te li puoi andare a cambiare i perks sempre! No, anche da umano... Eh, non c'ho una lira! Non c'ho una lira! Per curarsi! Non in giro! Guarda come mi voleva prendere e farmi del male, guarda! Eh, ma le segna così! Ma... Dove cazzo è? Allora, è qua per forza! Scamato! Eh! Scamato? E quindi? Merde! Merde! Che succede? Che succede? Cazzo! Bravo! Vai Marco un minuto! Marco un minuto! Marco un minuto! Tanto sei introvabile Marco, non ti preoccupare! Te li distraggo io! Marco un minuto Marco! Lo trovere è qui per forza! Ah, tra l'altro una meccanica che non abbiamo detto! E' che se vengono tracciati dall'aspirapolvere, poi quando c'è la mezzanotte sono più deboli! Ah, è vero! Ah, prendete armi anti loro! Antigeniche! Perché ritorneranno in vita quelli del palazzo! Perché ritornano? Non è vero! Si sono già resi al fatto che... No, ma adesso Marco vedi come lo smerdo eh! Si è nascosto in qualche posto terrificante! Molto bello quel messaggio lì, Gabriel! E' qui! 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 Grazie Drake per i 50 mesi! Vabbè preparatemi che risorgo! Aspettatemi! Basta con sta cosa! Vado a prendere i suppliti! Guarda che è qui eh! E' qui! E' qui! Allora prendiamoci questo! Ok salita! Lino! Lino! Non mi perlare! Sono in due! Bazzia! Sono morto! Mamma mia! Aiuto Marco! Vai Marco! Vai Marco! C'è una lente! Abbiamo detto di cambiare arco! Ma sono due vivi dai! E' vostro! Non è rinforziere! Ti è scaduta! Vedi un po' non c'è l'altro! E' vostro è stato questa tattica! Certo che il pechino! Non è che sia proprio il massimo! Dietro! Vabbà! Beh tira di una barilata! Dai! Dai! Marco che che fai? Marco! Stai guardando Instagram anche tu? Ah no! Ma questo chi è? Aia! Rial engine! Dovevi cambiare arco! Marco è rimasto fermo tutto il tempo! Eh prova! Sì sì! Ma stavo anche facendo... Sì! Ma no! Ma io non trovavo... C'ho il cazzo di microfono! Non serve a niente quel microfono del merda! No! Mamma mia! Il primo incontro con gatto stavo morendo! Sì! Che io ero la palla di cannone! Grazie motta per i 17 mesi! Che poi mi sono mosso un casino! Sono diventato un barile tipo 5-6 volte! Però non mi stavano mai visto! Eh perché è rimasto sulla nave tutto il tempo! Sì! Devo riempire la mappa di spray! Hai ragione! Ah! Gli spray! No! Gli spray di... L'avete fatto gli spray? No! Che cosi sono? Come su Counter Strike? Sì! Ah! Gli spray! Gli spray! Eh! No sì! Quelli del muro! Siamo sul gommone! Bellissimo! Allora amici! Io vorrei comprare qualcosa! Eh questo raga è forte! Ma dai! Ma siete fuori dalla barca! Siete fuori dal tunnel! No! Dove siete? No! Guarda che siete appesi! Io sono dentro da solo! Non posso! Ok! Sì vabbè se è buggato! Mi piace che abbiamo i mezzi super tecnologici però buttati lì a cazzo attaccati con lo scotch! Ma poi guarda che dove cazzo siamo seduti noi gatto! Si si vedo! Ma perché ci sono un sacco di navi affondate fantasmi? Eh! Grazie Larry per i 22 mesi! Salve gattone! Quest'oggi 22 pesci da prima! Grazie mille! È il triangolo di Bernoulli! Ma guarda quanto è Gardaland questa cosa qui! Tantissimo! Andrebbe ora che cambiasse un po' i tiranti a quella grande! Beh! Dover buttarli giù e rifarli! Guarda il cocodrillo Karim dietro! Ancora l'ho visto! Ancora l'ho visto! E' Aldo diventato! Eh devo capire come funziona sta roba! Brighella! Oh mio Dio ma posso veramente fare quello che pensi? Ma anche la musica! Eh Gardaland io voglio tornare a Disney per adesso quest'estate ci ritorno e vaffanculo! No ma c'è il stronzo! Dobbiamo provare per forza! No no io vado a Disney tu se vuoi vieni sennò vai a fanculo! No no! Io ho già fatto vino eh! Allora vediamo un po' come funziona la granata! Ma me le ricaricherà! Ma me le ricaricherà! Io ho già visto dove le sono! Dove sono? Ma dove sono? Questa arma! E lancio terribile stato questo! Era random! Va bene! Però una volta che le ho finite cosa faccio? Mi inculo per sempre! No non è vero perché! Esatto! Me le vado a ricaricare! Vado al tabaccaio e me le ridà! Marcolino? Dimmi! Eh mi serve il rada eh! Esatto! Secondo voi? Mannaggia! Non arriverò mai più la sub! Page in aprile! Mi sono rotto cadendo! Grazie mille! Rinnovate! Per il treno! Ah eccolo! È una cazza panca! È difficile! Sì sì! Lo sei diventato questo maledetto adesso! Marco! È più small! Che ansia però! Zitti in chat che ho fatto una figura di merda! Mi è caduto in testa! Mi è caduto! Mi sono rotto! Qua 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 qua! No! Mi stanno fregando! Mi stanno fregando! È qui intorno però eh! Un complotto è un complotto! Sì eccolo! È qui da qualche parte nel senso che ci vede ma non è... Ma che cazzo di culo! Nena gli è! L'ho missato ho avuto i colpi! No no! Dai che è quasi morto! Dove è andato? Boh! Nooo non mi farai del male! Merdone! Merdone! Eccoti lino! Scemo! Ma perché sono sempre un bucello gigante? Vieni ad aspirare la salma! Ma perché hai sparato quella? Aveva già sparato Marti? Che culo incredibile! Scemo! Scemo! No no! Sei è nubi! Sono nudo! Un diamolino! Eh no! Mamma mia come l'abbiamo preso in due! Ma come assist? Mezz'ora di sparo! Aspiratelo! Madonna! Mi dispiace tranquillo! Sono qua! Quando potrai fare sicuro? No! Gianni Fantoni! Uno contro uno alle poste! Che fai alle poste? Niente! Gli cedo il posto! Così può far prima di me! Cedo il post! Ho preso? No! E' giusto! E' qua... Più o meno... Basti! Ti faccio freddo! No! E' qua in zona! Hai visto? Ho più di un secondo! E' pazzo questo arpione! E' completamente andato! Ha trovato il meta! Ha trovato il meta! Eh si! E' il meta del gioco! Ma adesso è lente! Quell'arpeo! Ma questo è un pop pirata! L'hanno fatto con la cassa! Grazie a Rock per i 100 bytes! E anche a Chiamami Guaro! Sì! E' violento! Io sono violento! Sì! E' un piccolo per fare! Nella vita lo sono in game! Ma alcune è un radar? Eh! Sto cercando... Qua! Mi dice che è qua! Dove sono io ragazzi? Ma sei sicuro? Non è che ti sta ingappando! E' da mezz'ora che c'è qua! No no! E' qua! Ragazzi! E' qua da qualche parte! Ma non è che Morelli! Ah! Stai zizza! Capito? Mi fa male la panza ragazzi! Mi fa male la panza ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Eh sì! Sì! Sì però Morelli! Non più! Non più! Eh vedi che era una... Era una gabola Marco che voleva anche urlare! Mi stanno sgassando i piedi di... Ma qua c'è gente! Eccola nella mia faccia! Cosa ti ha detto nella faccia? Ahia! No no! Non è lui! Non è lui! Sono io! Dov'è? 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 È nel forziere! È nel forziere! Ma non rubarmi! È nel forziere che ti risparo! Sì! Lo aspiro! Lo stavo in quel mento! Con Karim che me l'ha spostato nel mento! Ma Morello sai cosa? Ero appena passato di lì e non era in quel modo la situazione! Quindi ho detto c'è qualcosa che non va! No è che ti ho tirato il coso! No è che ti ho tirato il coso! No è che ti ho tirato il coso! Non è giusto! Karim è cattivo ci va male! Ah! Ma tu vuoi perdere! Che poi per tirare le cose devi essere per forza all'inzona! Beh! Andiamo a Gravy Arts! Dove sei che demo? Andiamo a Gravy Arts! Comunque domani mattina è il motivo per cui ho chiesto a Lino di giocare assieme perché canteremo assieme la nuova canzone di Rumatera! Antonio! Quella è questa! Esattamente quella! Vai! Solo perché di Napoli? Fa così! Esatto! Quella del Napoli! Solo perché di Napoli? Solo perché di Napoli? Sì certo! Perché è napoletano! Sono un cantante! Non senti com'è neomelodico? Con anche la vibrina proprio! Sì 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 sì! Allora! Marco anche quelle di Pietra fanno così! Non voglio più spendere soldi! In maniere pesanti ragazzi! Eh non ho punto! Siete che faccio? Io faccio come fa... Chiari! Con il tipico accento vendito! Ma no! Ma ragazzi è in... È in... Sentate ciò! È in... Fatta sentire stamane! Lì non può confermare che tutti cantano dal balcone! Cosa scusa? Sì sì! A Napoli? Sì sì! Ma tu che cazzo ne sai? Che sì sì! Ma guarda che io sono un esperto! Guarda che io sono nato a Napoli! Guarda che cazzo! Tu sei nato a Napoli eh! Sì sì! Io sono Napoli! Mi sembra una cagata! Non so! Io contengo tutti infatti! Vedete che mettete... Ma siamo impennati ragazzi! Mettete lo spray! Con che tasto? Lo vedete nel mio spray? Zetta! Lo vedete nel mio spray? Sì! Ah ma io metto cosa? Scusa metto! Io metto l'immagine profilo! Grazie Astrax! Buona serata Gattone! Buona serata a lei! Grazie mille! Metti pallettoni! Non è che schifo! Non è che schifo il tettuto! Non è che l'ho messo lo spray! Quasi quasi comprò questa! Ah sì! Non c'ho soldi! Vabbè ci ritorniamo questo! Perché? Vabbè vado via! Wow! Siamo arrivati! L'ho messo qua! L'ho messo qui! Ho già visto uno andare via! Vado via! Vado via! Spacchiamolo di botte! È qui è qui! Allora! Guarda ragione di fatto di questo pirla! Ma questo pirla! Sempre io! Ho schiamato subito scusami! Ma perché? Ti distrai! Sì! Solo io son di Nando! Gatto anche! C'ha la cittadinanza! Eh! Paolo anche uno! È dal fondo! La panchina! La panchina! No! È dal fondo! È proprio in 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 fondo! Sì come avete visto? Sì! È invece Gatto Genio che ha messo lo sticker e non si ha spostato da lì! Scusami! Eh! Volevo fare la doppia la gabbata no? Adesso lo abbiamo trovato! Così lo metto qui e non sanno che sono rimasto qui! Invece! Eh! Va beh! Guarda! Usa il radar! Dobbiamo aspirare Karim eh! E io non ho la bocca! Usate il radar eh! Mi raccomando! Usate il radar! È qui eh! No Moro non mi aspirare per favore! È qui è qui! Guarda che è qui eh! Guarda che è qui eh! È qui è qui! No no è qui! Ah ma il gatto è già morto! Ah ma il gatto è già morto! Ah ma il gatto è già morto! Il gatto è già morto! Basta Karim sei tu questo eh! 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 Guarda che è qui eh! È qui! Adesso prendo la C4 il gatto! Mi ha rotto il coglione! Ma guarda quello che è bello! Il gatto lo troviamo Marco! Quanto corro ragazzi! Ma ho sempre potuto correre così! Sei una cazzo di Ferrari! Non ci sto dietro! Sono un fantasma! Dobbiamo trovarlo! Ma è impossibile ora! Marco è il miglior giocatore di nascondino assolutamente! Sono fantastico! Moro il radar! Ma! È Moro! È qui! È qui! È qui! Lo vedi Rezar? È qui! Che fai? Ma mi sembra un po' eccessivo tutta questa violenza! Io te lo dico! Non importa! È qua sotto Marco! Eh lui! In realtà Karim è sempre il primo a morire! Da me! Da lui! Sono sempre io il primo a morire! Fateci caso! Karim è sempre il primo a schiatare in ogni gioco! Ma cosa ha visto questa storia? Ma arrabbiati Karim! Che cosa ha visto? Questa signora! Questa mazza! Questa pazza! Cosa ha visto? Sì tutti ciechi eh! Ma perché tutti! Adesso cosa stessa inizia? Bastardo! Io sono immortale finché non ci sono delle palle giganti! Non lo sto... E qua dentro eh! Tanto è di giocarlo Karim quello lì! Te lo dico io! Baroni certo! Mamma mia! Baroni è bellissimo! Ma l'hanno aggiornato? Dicevo! Perché... Boh! Eh perché io ci ho giocato... Quando è? Tre anni fa! E lui secondo me? No! Però non è... Non aveva tanta roba! Ho fatto una piccola cacata! Meno male che non vi siete accolti! No! Dov'eri? Che puzza Marco! Ho fatto una piccola... Non me l'hai detto! Dimmelo su Telegram! Vado a prendere il fumo! Lo dico su Telegram aspetta! Sì sì! Dov'è? Guarda che glielo dice poi! Guarda che questo qui è un infame! No! Scemo! Ti ho trovato! Vedi glielo ha detto! Glielo ha detto subito! Dov'è? Ma è pericolosissima quella roba! Marco stai attento! Marco! One shot! Eh niente! Come hai fatto? Eh... Non arrivi lo speaker sotto le gambe! No! Lo so! Ma quello l'ho fatto... Cioè... Sappiamo che non avrete mai guardato lì! Quindi lo faccio! Eh! Ma perché io sono particolare! Quindi vedo dove non guardano gli altri! Dove non vai a guardare! È solo particolare! Sì sì sì! Ok! Sono pronto! Dai! Adesso vi facciamo il boost! Questa volta! Volevo cambiare arma! Voglio fare il boost! Come fai il boost? Faccio io il radar! Dai! Faccio io il radar! Mi sacrifico! Ma non c'ho abbastanza sfere! Il boost! Io quasi quasi! Ci vado di mazzolate! Vuole tirare delle legnate a tutti! Col martello! Sì! Uso il boost smasher! Quando scappano è dura! No! Non lo sledge! Molto molto carino! Però lo sledge è sciotta! Ma lo sledge no! Credo sia una trollata lo sledge! Perché nel tutorial non faceva niente! Sono contento vi stia piacendo ragazzi! Dove mi nasco? Però io se li aggancio con il gancio tu li mani col martello! Allora io ho preso il ghost smash! No! Ho preso il mazzolino! Però lo sledge è sciotta effettivamente! Sarebbe da provarlo! Scusa! Cos'hai preso adesso? Allora! Dall'immagine mi fa vedere che carica e tira una legnata! Lo puoi caricare! Esatto! Quello piccolino! Dimmi! Che gadget hai preso? Ho preso il radar! Così puoi fare quello che vuoi! Ok! Quanto è in salita sto poco! Ma siamo in un carro funebre! In Transilvania siamo! Non palazzi! Ma a me piace essere grande! Allora! Se mezzanotte è l'ora dei fantasmi no? E lo sanno tutti! Perché noi sempre alle 11.54 ci stiamo presentando? Eh infatti è quello che ci chiedevamo prima! Non so! Sempre traffico! Cioè non è un po' da stronzi? Effettivamente! Eh effettivamente! Ma poi arriva un po' prima! To! Lo dico proprio alle 11! 11 e mezza! Massimo di giocare 4v4! Sì! No in realtà c'è il 6v6! Anche il 6v6! Beh è il 6v6 che cazzo si capisce! Ci vuole lì nelle mappe! Guarda che bello sto colore! Qua c'è della... Come si chiama? Della cosa che lasciano i fantasmi! Della sciat! Della sciat! Aspetta che io non ho mai usato il radar in tutte queste parti! Ho chiamato! Ho chiamato lì! 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 Scusatemi! Eccolo! Lo vedo! Però non gli posso sparare! Lo rincorro! Ti è l'ho menato! E basta! L'ho shottato! Aspiralo! Ragazzi per farvi vedere la miglia di papera! Il coso pop finder è utilissimo! Ho visto tutta la scia e vero la papera! Stavo facendo il quacqua dovevo per forza! Il radar funziona da solo vero? Non devo prendere nulla! Eh ragazzi! E' qua qua qua! Dovevo! Ragazzi! Focherello! Qua qua qua! Non lo sbaglio per il quacquaio eh! No focherello! Ho proprio lo strumento che mi faceva vedere chi è tiri posato lì! Ma allora scusami! E' tipo un legale! Che disastro! Ma è legale questa cosa Marco! Mi sento chill! Ma non è qui ragazzi! Non è qui perché vedo col mio strumento polo! Ok! No ragazzi! Guardate di qua! Di qua! Moro! Ah non sei Moro! Sei contro di me! No! Sono contento! Ragazzi! Fuocherello! Fuocherello! Uno la sotto c'era gatto! Perché mi tirava le robe! Si però... Magari ero dall'alto e ti vedeva eh! Ma io da sotto non ho visto nessuna traccia comunque! O è sempre stato lì? C'hai mezzi illegali! Ma... Moro! Io sono illegale! Vabbè ma zecca ne è uno per sbaglio! No! Non ce la faccio! Attenzione! 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 Cazzo ride sto scemo! Attenzione! C'ho il cazzo dritto! Eh! Ma perché? Mi sorpresa! Arriva lui che spara! Ma c'ho il cazzo dritto qui nell'inteso come la lancetta! No no no! Ormai eh! Adesso ho capito! Eh sì! Ho avuto un erezione! E' stato! E' volato tutto! E' volato tutto! Qui qui qui! E' sicuro qui eh! Mazzuolo tutto! Eccolo! E' qua! Ma che dolore! Ma com'hai fatto a sparire? E' diventato regio! Ma era regio era! Com'hai fatto a sparire? Ma com'hai fatto Mauro? Lì proviamo! Ma io mi sento drogato! Che succede? Grazie Sbrinzio! Si rinnova in prossimità dell'esame di botaniche! Ma è un mago! Ma vabbè! Tanti auguri! Non ci dici i suoi segreti! Allora tieniteli! Eh no! Siamo tutti maghi! Me li tengo! Il mago Zurli sono io! L'unico senza potere! Mago Zurli? Sì sì! Io faccio Willow! Aspetta ragazzi! Di qua! C'ho di nuovo il penne tutto turgido! Guarda chi! Però non si è passato! Si è passato! Niente niente! Di roba traslucida! Dove va? Ma guarda! Era il Colosseo! Mi sa però si è levato da quello! Ok! Un mezzo sia una grande idea! Come ride? Sai chi rideva così? Ciccio! Ma qui c'è un deficiente! Ciccio Graziani! Vedo l'altro! Allora! Allora! Ragazzi! Qui c'era uno di quelli finti! E' qui! Sicuramente! E' qui! Eccolo! Non lo so! Sei buttato lì sotto! Ho fatto il camicazzo e sparito! Si rogano! Si rogano! Porca troia! Che mossa quella bella! Mi è piaciuta! Ma come? Era sicuro un lizard che se ne è stato un po' zitto! Qua c'è un palo! Ma che cazzo di farsi suono lì? Eh! Quanti qua! Eh! Lo dico in modo un po' rauco! 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 Come è che non c'è più liquidino seminalino qui? Io di spio! Ma allora! Ma perché? Oh! Un enorme baule! Un enorme baule! Un enorme baule! Aspetta! Rimetto il chill! È una decapitazione! Come si chiama? La ghigliottina! La ghigliottina! La ghigliottina! Piri pipiri! Una cariola adesso! Che cazzo c'è da ridere sulla ghigliottina? C'è la gente ci moriva eh! È una lapide! È una lapide! Ecco a proposito di morte! Caspita sono l'ho presso! No! Mamma mia si ritira una legnata! Vedi qui! L'ho ucciso! E vai! Mamma mia! MPP delle legnate eh! Quanto sbrigati! Quanto sbrigati! Invece di F! Mi sono mosso! La scia di seminalità è incredibile! Eh però mi devi dare una mano con la tua seminalità perché qua 30 secondi e tornano e io ho solo il bastoncino Fintus per menarla Sarà in alto in qualche cosa In un'altra mappa Si è cambiato gioco Liezar infatti sta giocando a pro punt Si è tornato indietro su Si è mosso eh! Però non è non è! Che paura! Non è non è! Qui! Ragazzi! Ragazzi è qui! Da qualche parte è qui eh! Melochetta! Ma era una finta! Ragazzi ricaricate le vostre armi! Eh non ci sono da ricaricaricarle! Stiamo arrivando! L'ho preso! L'ho preso gatto! Ma è troppo tardi! Ma è troppo tardi! Ma è troppo tardi! Amici! Grazie Elena! Gatto aiuto! E dove sei? Chi arriva? Chi arriva? Chi arriva da te! Ma riesco a prenderlo! Chi è andato completamente! Ma sei di me? Ma come è possibile? Fortissimo! Ci siamo uccisi vicende! No mi sono pippato le maniche! Ma guarda tutto! Quanto la sera metto... Chi arriva in sottofondo per i lasamci! Ci mancherebbe! Ti fa dormire! Cazzo! Siamo posti! Bravi! No! Io cazzo ho sbagliato! Faccio il Sao Partiaro! Un baule nella faccia! Marco! Io ho visto che hai fatto... Eh sì! Poi ce n'era tutto... Con lo strumento era tutto cosparso di schifo! Era una spazza d'albergo di quelle americane popolese! Bello! Madonna! Tutte sburrate! Che vai con la torcia ovive di tutti Pollock! Mi sarai con la torcia ovive tutto bianco! È tutto bianco! Proprio uniformemente bianco! Bello! Bello! Ma sono finite le mappe? O ce l'era qualcosa? No! L'ospedale! You can't hear me! Questa qui ce l'abbiamo a scuola! La scuola! La scuola! La scuola! La scuola! Sì sì! È davvero bello! Allora ragazzi... Tomorrow we will sing! Tomorrow in the morning! Sì! Scusami! Come hai visto il posto della... Spon, Spon? Che cazzo hai detto? Vado bene! Lino! Siccome ti voglio bene ti dico il Pathfinder! Il Pathfinder! Ok! Vabbè io utilizzo il Grappling! A porto! No! Il Grappling serve solo per appendersi, per muoversi! No! Io mi prendo i refantasmi! No! Quello è un'arma lì! Non è sbagliato! No! Scusa! Qui c'è scritto... L'arma arpione c'è! Ma sono da solo in macchina ragazzi! Eh sì! Perché sto ancora... Oh dai! Lo metto il secondo gadget! Allora... Che ci compro? Io mi tengo in radar a sto punto! Per ricaricare questa questione qua! Che faccio? Bravi! Bravo! E i perk sono tutti... Ah! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Se lo scambiamo subito! Ah sì che... Ciao Lud! Eccoci qua! Eccoci! Bi bi bi! Inganno della camera! Pensa che ridere se gatto lo proviamo istantaneamente! Vabbè davvero molto! Ma c'era... Ma scusami! Cosa sono tutti i serope volanti? Eh le ha messe i bastardi qua! Sono i poltergeist! 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 Allora! Troviamo subito i cattivoni! Io... Ma sempre sopra la tastiera devi mettere il liquido! Sì sì! È il posto più comodo! No! Hai rimesso il liquido alla tastiera! Di nuovo! No! C'è qualcuno qui sopra! Forse! Aha! Dove sono i cattivoni? Qui era... Scusami! Ma non è che siete voi i cattivoni? È probabile! Effettivamente... Così tranquilli... Aha! T'ho visto! Invece! Era uno scherzo! Era uno scherzo! Te l'ho visto! No! Non è con lui! Eh Morelli! Hai rotto il cazzo però eh! Uccidilo! Dove sono? Ti ho ingannato Dio! Lo sapevo che avevi visto però hai fatto... Sei stato abbastanza bravo con non c'è l'ansia ad andare avanti! Sì! Di qua! Deve essere! Qui non c'è l'ansia! No! Aspettare! Sopra! C'è un mal di schiena oggi? No! Ah! Non che gli altri giorni! Fa proprio la finestra! Chi è che ha radar di lui? Mi piace questa padronanza della lingua che... Ma dove? Non li trova! Chi sta cacchando addosso qualcuno? Io! Il super ruzzi incredibile! Io sto cercando i Van Der Smini! Non li trovo! È stato veramente l'inganno dell'H3! Lino sta scongidando qualcosa! Esattamente! È stato vinto i sensi! Lino sei l'unico a car radar quindi... No io c'ho il Pathfinder ragazzi! C'era qualcosina sopra ma... Lino guarda che sono qui eh! Il Kummerman... Sì sì! Senti che sono qui? Senti che sono qui Lino? Sì sì sì! È carico che è stendato secondo me eh! È talmente concentrato che si è più solato! Sei cucato bellissimo! È in bagno a cagare Lino! E non mi troverete mai comunque! Nooo! E dai! Ciao Elidi buonasera! Ho provato ragazzi! Non credo! Ma è che Morelli è un segugio eh! Sì però anche voi che caccate che se vi mettete a fare! E fino a qualche parte! Ti ha visto! Ma Marco sei un po' uno stronzo! Marco nooo! Gli l'hai proprio fatto in faccia! Gli l'hai fatto! Eh ma eh! Avevo qualcosa che se non mi muovevo mi sgamavano subito! Eh ma in realtà guarda che non è neanche così grave! In realtà ti sgamiamo se ti troviamo! Esatto! Eh ma eh! Mi sono preso da parte! Cioè semplicemente se corrata suona da più lontano! Suona di più ma non è così! Ah ok! Oh 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 oh! Ah ok ragazzo! Bastardo! Domani ti buco la barca! Vabbè! Perché di solito invece sei un massimo esperto! Tu lo faccio apposta però! Dai dobbiamo trovare! Senza radar mi sento veramente immittile! Ma poi guarda qui! Guarda qui! Lino è qui! Si no! Lo ghiaccia! Lo ghiaccia! Lo ghiaccia! Io ti dico radar! Allora dobbiamo trovare Karim! Ma ha detto che non lo troveremo mai! Eh! Sono d'accordo! Io so dov'è! Io non lo so! Lo puoi dire Marco! È qui! Guarda che te lo dico Lino! È qui! È qui! Qualcuno però è stato qui! Maledetto! Ha avuto! 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 Ragazzi mi sento un ciltrofono! Allora! Cos'è un ciltrofono? E' un citofono però tranquillo che suoni Bravo Sono due giorni che mi sveglio Sono due giorni che mi sveglio Perché sogno il suono del citofono Non so per quello di Tu sogni che senti il suono? No il citofono E mi sveglio E' del secondo giorno consecutivo Poi magari scopriamo che è vero e lui è coglione Sarebbe molto divertente Non vedo un piffero Taci che il pacco che deve arrivare oggi Non arriva Ma dove cazzo sei cari? E' qua e qua e qua Ti prego esci allo scoperto Ciao Mikey Basta ti prego Non posso scendere Non ci posso scendere No ci ha fregati Che cervello figo E' fortissimo cari Ragazzi io devo andare alla toilet Ma è qui 30 secondi me la tengo Mi hanno sgazzato No vabbè sicuramente è uscito dal gioco Ma è qui E' qui E' qui No non è vero No ma anche se E' qui e qua stupro sotto Vabbè uccidiamo i fantasmi E' comunque qui Qui da qualche parte Perché non si sente carino a volte Perché sta zitto Ma ho trovato Lui è concentratissimo Dove? Non è vero Guarda lo sto seguendo Lo sto seguendo E' scappato Sto già tra yardando No cari cari no L'ultimo mi hanno ucciso Che sfiga 5 secondi All'ultimo secondo M'hanno sgamato Grazie mille Giorgio Per i 17 mesi Un saluto A G Chi K D B Sopra di schede Perché io saltando Vado in bagno il volto Il bar E infatti saltando Allora io devo dire Che ho saltato davanti a Lino Due o tre volte Non se ne è accorto Stavo guardando la chat Probabilmente Bravissimo Bravissimo Ho usato il radar Bravissimo Dai Guardatevi Tavui Siamo stati davvero Amari No Avete avuto un po' di culo Secondo me Lino Mi sono i più forti E noi abbiamo il tryhard Voi non ce l'avete il tryhard E' moro il tryhard Guarda che si fa finta di non essere Allora C'è questo qui Io voglio essere Io voglio fare questo Speriamo l'abbia preso Alla radione si sta giocando Con le cinesi Sapete non mi piace Preferisco diventare Frankenstein Ma come sei incazzato tu Se so Incazzatissimo Sono cattivo Sì sei molto incazzato E se hai messo tutto Mamma mia Un bodyguard Voglio essere lui Wow E posso fare questo Weee E ne vado Comunque se posso dire Questo gioco Chiederò il rimborso Perché non mi si vede il corpo Se mi guardo Da solo Ma secondo me Soprattutto se lo aggiornano Infilano mappe nuove Può essere davvero bello Sì 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 Ma io mi sto dire Ma io ho paura E' bellissimo Però ho paura Che la mono Sì duri poco Modalità Duri poco Come tutte Purtroppo Ma assolutamente sì Infatti almeno mappe nuove Almeno mappe nuove Ci sono a puntare un sacco Perché Ho cantato prima una canzone a carino Non è vero Non la faccio più Prima Ho cantato una canzone Mentre stavamo giocando Sì Ho fatto una piccola Canzoncina E tu ero io E tu ero io